Mi trovo a Taranto, dinnanzi alla cassa circondariale Carmelo Magli, una manifestazione pacifica civile di parenti, di familiari dei detenuti, di alcuni detenuti, che rivendicano condizioni di maggiore sicurezza alla luce dell'epidemia dell'emergenza coronavirus. Il detenuto è giusto che sconti la pena, ma ricordiamo che la pena ha un carattere rieducativo e deve essere in ogni caso garantita la dignità e la salute, l'integrità fisica di chi è costretto nelle mura della cassa circondariale. Volutamente realizzeremo queste interviste con le persone intervistate di spalle per una questione di privacy, per una questione di sicurezza stessa nei confronti dei detenuti. Abbiamo una prima persona, sentiamo un po' le vostre rimostranze. Allora, innanzitutto noi da fuori non sappiamo i nostri detenuti come stanno, ci dicono bene, non esce un direttore a rassicurarci, non sappiamo se i nostri compagni, i nostri mariti, i nostri padri stanno bene. Vogliamo fare delle rivolte pacifiche per farci ascoltare anche da buona fede, perché fino adesso nessuno di noi è stato ascoltato. È giusto, devono pagare, è giusto, però non con la vita, perché qui si sta rischiando la vita. Ci dissociamo da qualsiasi tipo di violenza, perché noi violenze non ne vogliamo. Ma volete risposte? Vogliamo risposte, vogliamo risposte, sì. Signora, mi perdoni, voi come familiari di detenuti avete scritto, immagino, al direttore del carcere, agli altri organi preposti, avete ricevuto o non risposte? Assolutamente no, nessuno ci ha risposto, nessuno ci ha dato una spiegazione. Quando sono state fatte queste vostre richieste? Oramai stiamo dal 6 marzo a fare richieste, nessuno ci risponde. Per iscritto le avete fatte? L'abbiamo fatto per iscritto, l'abbiamo fatto attraverso la televisione, l'abbiamo fatto attraverso messaggi, ma nessuno ci risponde. Chiamiamo al carcere, allora anche mio marito purtroppo sta in carcere, chiamo, come sta mio marito? Non ti preoccupare, sta bene, sei andato a fare una passeggiata. Ste prese così non vanno bene, noi vogliamo delle risposte certe. Le rivolte? Ci sono rivolte? Forse c'è qualche cosa dentro che non va. Io ricevo messaggi privatamente da moglie, da familiari che i detenuti vengono picchiati e non parlo di Italia, parlo di tutta Italia. Questo è da vedere, quello che ci interessa è però che ovviamente rispetto alle vostre istanze, e quindi qui faccio l'appello al direttore del carcere, alla direttrice del carcere, affinché le risposte direttrice, con tutto il rispetto per lei, vanno date. Noi ci auguriamo che tutto sia, che siano attuate alla lettera le prescrizioni appunto inerenti al coronavirus, però nel momento in cui un familiare, o meglio ancora, più familiari fanno delle rimostranze, il dovere e l'educazione impongono di rispondere. Ma lasciamo perdere l'educazione, parliamo di un dovere civico. Noi faremo sempre le cose pacificamente. Infatti io ho apprezzato. Ci dissociamo, lo ripeto, ci dissociamo da qualsiasi tipo di violenza. Sentiamo un'altra signora, lei ha suo marito? Io ho mio fratello. E come diceva appunto la signora, non siamo per la violenza, non vogliamo che la facciano all'interno perché gli si ritorce contro, però appunto non stiamo facendo questo nemmeno per le visite, perché possiamo aspettare una settimana, due, anche se ci soffriamo. Vogliamo che prendano delle precauzioni, delle alternative alla detenzione e che comunque vengano trattate da persone la quale sono, persone umane, perché c'è gente anche che è giù e noi non sappiamo nulla, non ci rispondono al telefono. Io da ieri mattina che sto chiamando e il telefono è sempre inesistente. Voi incontrerete, lei incontrerà suo fratello in giornato neanche? No, perché i colloqui sono sospesi, perciò siamo in ansia, perché non ci fanno capire. I colloqui sono tutti bloccati. Quante ce ne saranno, se saranno videochiamate, per chi è giù, perché abbiamo saputo che ci sono detenuti in isolamento e quindi non sappiamo se faranno delle... cioè noi siamo all'oscuro di tutto. Perché questa poi paradossalmente, questa situazione di isolamento diventa una doppia detenzione. E' peggio, è peggio e poi loro all'interno nemmeno sanno la situazione fuori. Quindi secondo me sono loro che, secondo il mio parere, stanno facendo di tutto per metterli in questa situazione, perché non aiuta, insomma. Signora, lei ha? Chi ha detenuto? Allora, io ho mio fratello all'interno, mi sono fatta portavoce del carcere di Taranto. Abbiamo contattato anche un Claudio, l'avvocato di Roma, per far mantenere il rispetto umano che qui nel carcere di Taranto e anche nelle altre carceri non viene eseguito. Allora, il carcere di Taranto ha varie problematiche. Partiamo dal presupposto che hanno 370 unità di esubero, quindi vivono già in condizioni disumane. Qui a Taranto non vige la legge Torreggiani per il diritto umano del detenuto. Allora, parliamo dei colloqui che giustamente per una prevenzione sono stati sospesi. Ok, è giusto. Però per non creare guerriglie, per non creare guerriglie quasi apocalittiche di come sono state create a Foggia, non ci danno né l'opportunità di poter tranquillizzare il detenuto e né tranquillizzare noi. Anche perché, chiedo scusa, un semplice contatto, una semplice comunicazione sarebbe opportuna? Il problema è che qui a Taranto non abbiamo neanche il garante del detenuto. Il garante del detenuto che comunque doveva farsi portavoce, in quanto neanche per gli avvocati è concesso entrare, si doveva fare il portavoce tra carcere e familiari e familiari e carcere. Cos'è avvenuto ieri? Allora, ieri noi avevamo il colloquio. Era stato detto che... Ieri, oggi stiamo registrando, è 12 di marzo, parliamo di martedì 11 marzo. Avevamo il colloquio, quindi era stato sostituito, detto che era stato sostituito il colloquio a 20 minuti e concessi a 20 minuti di telefonata. Ok, ci hanno detto che potevano telefonare dalle 9 alle 23. Abbiamo atteso fino a luna di questa notte, questa telefonata non è stata fatta, perché dice che comunque c'erano tanta gente e qui andiamo con il fatto che c'è un esubero qui dentro. C'è un esubero, ecco perché non riescono neanche loro a contenere le ordinanze che devono essere fatte. Cosa è successo? Stamattina ho chiamato, perché dobbiamo capire che all'interno ci sono dei detenuti con delle restrizioni, a prescindere dal fatto delle patologie. Quindi ci sono dei detenuti che vengono concesse due chiamate mensili. Cosa è successo? Che non sono nulla. Non sono nulla, sono... Però meglio di niente. 10 minuti, 10 minuti, 2 al mese. Questa è una cosa regolare che comunque lo prevede il regolamento e la Costituzione. Perfetto, per quei reati. Allora, se ieri non è stata fatta questa telefonata straordinaria che doveva andare pari passo con il mancato colloquio e non è stata fatta, stamattina chiamando dalle 6 e mezza per vedere come sanno i ragazzi. Ricordiamo, stamattina, mercoledì 12 marzo, mi viene risposto, signora, le faremo fare la chiamata, dopo mille chiamate che abbiamo fatto per sapere come è la situazione all'interno, ci hanno fatto fare questa benedetta chiamata e mi hanno detto, signora, questa chiamata sarà la chiamata ordinaria e non straordinaria. Allora, tu hai una persona che ha comunque la chiamata restrittiva di due volte al mese, me l'hai già fatta fare un'altra chiamata, ora noi ci siamo bruciate le chiamate perché sono due al mese. Quando invece in una situazione di emergenza si sarebbe dovuto aumentare il numero? Niente, 20 minuti, noi non chiediamo 20 minuti, ma almeno 5, 7, 8 minuti che ci mettano in contatto con i nostri detenuti per sapere all'interno la situazione com'è, per tranquillizzare noi loro, per dire ragazzi calma, noi la vediamo facile, ma loro no. All'interno sono chiusi tre persone in 20 metri quadri. La Costituzione non prevede questo, la legge Torrigiani non prevede questo. Ecco, io dico, oggi assistiamo in Italia a un sovranismo, a un senso di giustizialismo, io parto da questo presupposto, chi ha sbagliato deve pagare. Non c'è problema, però la dignità e l'integrità, la salute è sacrosanta. Devono vivere in modo umano, non disumano, perché comunque è giusto che chi delinque deve pagare la sua pena, però in condizioni umane. Voleva dire qualcosa? Alla fine diciamo sempre la stessa cosa, che appunto, come dice la signora, devono pagare, ma non con la vita, perché c'è gente che non deve farsi 30-40 anni. Cioè stanno dentro, parliamoci chiaro, per fruttarelli, quindi dell'alternativa al carcere si possono dare, per farli vivere meglio, insomma. Io dico, al di là di tutto, l'appello che rivolgo alla dottoressa Stefania Baldassari, direttrice della Cassa Circondariale di Taranto, è quello di dare risposte. Dottoressa Baldassari, noi rispettiamo, abbiamo stima della sua persona, del suo operato come direttrice, però questa gente deve avere risposte. Perché dottoressa Baldassari, noi dobbiamo evitare, ovviamente, prevenire che si arrivi a forme di protesta ovviamente violenta, che condanniamo già a priori. Però, dottoressa, lei per un attimo si spogli della veste di direttrice e immagini che avesse lei un figlio, un fratello, un marito, un genitore in carcere e immagini per un attimo che questa persona si trova completamente isolata. È come se stesse in un mare tempestoso, se stesse in un'isola deserta. Almeno la consolazione minima, minima, per un familiare di sapere mio marito, mio figlio, mio padre, sta bene. Almeno questo, un attimo, una parola, cosa costa? E poi, dottoressa, rispondiamo, viva Dio, tanto ci vuole rispondere. Metta un segretario, un suo collaboratore che dia risposte. Questo, dottoressa, è un silenzio assordante. Perché per mantenere la calma all'interno, noi vi vogliamo aiutare perché capiamo che comunque nel momento in cui possano succedere delle rivolte, creano problemi all'interno. Noi vogliamo prevenire, vogliamo prevenire. Quindi questo servizio che stiamo facendo, queste interviste, sono la prova provata delle migliori e la testimonianza di una civiltà che i familiari dei detenuti stanno esprimendo. Vogliono soltanto la realizzazione, l'applicazione di un diritto costituzionale. Attraverso le chiamate possiamo consolarli e dirgli state calmi, non fate niente, perché se non abbiamo contatto... Ci costringete a mandare il messaggio pacifico a loro, a dire ragazzi state calmi, ma lo dovremmo adottare in altre maniere. andare fuori dalla parte, lì sa come è fatto questo carcere, dalla parte della campagna e urlare ragazzi state calmi, state tranquilli. Noi non vogliamo arrivare a questo. Come si dice e si sente dai giornali, trovano dei cellulari, ma forse li inducono loro a fare questo. Perché se non si riesce ad avere un minimo di comunicazione con la famiglia, uno fa anche questo. Bene, allora concludiamo questo nostro servizio, l'appello è stato mandato, dottoressa Baldassari, noi ci conosciamo, le rivolgo e le ripeto, le rinnovo la mia stima, però questa gente vuole risposte. Nel momento in cui il parente del detenuto vuole avere notizie del detenuto, le hanno scritto tantissime volte, ci sono le certificazioni degli atti appunto dello scambio della comunicazione epistolare, bene, attendiamo risposte. Dalla casa circondariale di Taranto, Carmelo Magli è tutto. Grazie a tutti.